Buon pomeriggio a tutti, sono Sharon Campolongo dell'ufficio stampa di Top Doctors. Oggi siamo in compagnia del professor Claudio Manna, specialista in ginecologia, esperto in infertilità e direttore del centro biofertiliti di PNA. Parleremo oggi della diagnosi preimpianto, approfondendo nelle sue funzioni e come si esegue. Buon pomeriggio professore, è un piacere poterla avere qui con noi. Grazie, il piacere è tutto mio. Perfetto, allora iniziamo subito con la prima domanda. Che cosa si intende per diagnosi preimpianto? Ecco, si intende per diagnosi preimpianto tutte quelle tecniche di laboratorio che nella PMA o procreazione medicalmente assistita vogliono identificare quegli embrioni portatori di anomalie genetiche. La più ricercata di queste tecniche riguarda il numero di cromosomi all'interno degli embrioni o anche aneuploidie perché si ritiene che tanti fallimenti dell'impianto o aborti dipendono proprio dalle aneuploidie. Perfetto professore, e chi dovrebbe sottoporsi a questo tipo di diagnosi? Bene, intanto volevo precisare che la diagnosi preimpianto per le aneuploidie serve a scegliere quegli embrioni da trasferire in utero che sono risultati sani e non trasferire gli altri. Quindi chi si dovrebbe sottoporre a questa tecnica? In teoria numerose coppie, specialmente quelle che magari hanno avuto degli insuccessi in precedenti tentativi. Quando si fa? Ma si fa nel corso della procreazione medicalmente assistita. Certo, e professore come si svolge tale procedura? Allora, la procedura inizia con il prelievo di alcune cellule da quegli embrioni che sono giunti dopo cinque giorni allo stadio di blastocisti. Ecco, da un'immagine si può capire come si esegue perché è vero, è una tecnica un po' invasiva come si può vedere anche dall'immagine. Dopodiché, questi embrioni vengono crioconservati per attendere il risultato delle analisi su quelle cellule che sono state prelevate. Poi, in un ciclo successivo, quando abbiamo i risultati, vengono scongelati e trasferiti in utero solo quegli embrioni che sono risultati normali, sempre che ce ne siano, perché magari può risultare che sono tutti anomali. Certo, e professore quali sono i possibili rischi? Ecco, questo dei possibili rischi per la PGTA è una domanda molto importante, perché in effetti questa tecnica presenta numerosi limiti e a volte anche dei rischi per l'embrione, ma questo accade per alcune precise motivazioni. Prima di tutto non tutti gli embrioni arrivano a blastocisti, può succedere benissimo che nessuno arriva a blastocisti e quindi questa tecnica non si possa fare. Inoltre, questo prelievo avviene un po' alla cieca, nel senso che le cellule, sia quelle anomale che quelle normali, sono distribuite molto spesso in una maniera mosaico nell'embrione, quindi noi non sappiamo se andiamo a prendere quelle anomale o quelle normali. Per di più si è visto, è stato scientificamente provato, che l'embrione è anche in grado di autocorreggersi da queste anomalie e sono infatti nati bambini perfettamente sani dopo aver trasferito in utero degli embrioni a mosaico ritenuti non idonei. Quindi i limiti non sono pochi, inoltre si è visto anche che questa procedura dà una maggiore percentuale di gravidanze a rischio. D'altra parte anche la Società Europea della Riproduzione Umana, nelle sue linee guida, ha proprio scritto chiaramente di questi limiti della diagnosi preimpianto, in particolare il fatto che essendo molto spesso questi embrioni a mosaico non è possibile dal risultato di poche cellule, diciamo così, dire che tutto l'embrione è anomalo oppure che è normale. Certo, e professore dopo quanto tempo si ha una risposta e quanto è attendibile? Ecco, in genere la risposta avviene dopo poche settimane, per cui poi si può rifare il ciclo e trasferire solamente quegli embrioni che sarebbero risultati normali. Quindi se mi si chiede ma quali sono i benefici di questa diagnosi, vero? E noi intanto dobbiamo immaginare i limiti, li ho già detti, e i rischi. Ma se noi andiamo a prendere le statistiche, perlomeno in Italia, quelle dell'Istituto Superiore di Sanità, e noi vediamo che in realtà di quelle pazienti che hanno o che si è deciso di fare la PGTA, solamente il 14,1% partorisce, per varie ragioni, perché magari non si formano le blastocisti, perché c'è il problema del mosaicismo, eccetera, eccetera. E anche che anche in quei casi in cui la gravidanza si instaura c'è una percentuale di aborti pari al 18,3%. Ok, e professore, l'ultima domanda, quali sono i benefici di questa diagnosi? I benefici di questa diagnosi sono limitati, magari sono da considerare in casi molto particolari. Diciamo che un tipo particolare di diagnosi riguarda, per esempio, delle malattie geniche trasmissibili, come l'anemia mediterranea e la fibrosicistica. Allora, in questi casi veramente consigliata la diagnosi preimpianto, piuttosto che nelle aneuploidie o anomalie del numero dei cromosomi, ecco, per essere precisi proprio. E quindi poi, chiaramente, nella libertà di ogni coppia è quella di scegliere se sottoporsi a queste tecniche. Certo, grazie mille professore. Vuole aggiungere qualcos'altro? Grazie intanto per l'invito. Io continuo a dire sempre, come al solito, che il successo di queste tecniche, di tutte le tecniche di procreazione medicalmente assistita, si basa fondamentalmente sulla personalizzazione delle terapie e anche sul fatto di non stressare troppo gli embrioni, che specialmente nell'età più avanzate possono essere abbastanza fragili. Inoltre, bisogna dire che anche quando si instaurano a gravidanza, dopo PMA, ebbene, si possono fare tutte quelle tecniche di diagnosi prenatale che qualsiasi donna fa quando arriva alla gravidanza, anche spontaneamente. Certo, grazie mille professore. Approfitto per ricordare ai nostri utenti che è possibile richiedere un consulto tramite il servizio di telemedicina, una visita presenziale con il professor Claudio Manna attraverso il suo profilo disponibile sulla piattaforma of doctors. Grazie mille professore. Grazie a voi e arrivederci. Arrivederci.